Deve però fare qualche cosa in più rispetto a quello che ha fatto vedere nelle prime due riprese. Si abbassa pericolosamente Garofano, cerca di approfittare Sino però è sempre Garofano a ritornare subito a colpire. Adesso arriva a segno con un ottimo diretto destro Sino che viene accusato da Manuel Garofalo. Il signor Avolio lo conta, è il primo conteggio di questa giornata dei quarti di finale. Ricordo che il conteggio non determina punteggio ma comunque sicuramente è un'azione che i giudici tengono in considerazione. Prova Garofalo ad allungare il suo destro però adesso è Sino che porta a segno dei colpi. Qualcuno arriva con l'interno del guantone. Ancora un gancio di Sino, finisce molto stanco questa ripresa. Manuel Garofalo con Sino che sta mettendo a segno ottimi colpi. Ancora il jab sinistro, poi il montante con il destro però non va a segno. Adesso Sino prova a chiudere alle corde. Sino è Garofalo. Prova anche al bersaglio grosso Sino. Adesso è Garofalo che arriva con un bel gancio destro. Indubbiamente è una ripresa. Ecco gli ultimi dieci secondi di questo match, questo quarto di finale per i 64 kg. Finisce l'incontro con un bel abbraccio.